Dal Vangelo secondo San Giovanni, l'Od a Teo Cristo. In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, oda vado da colui che mi ha mandato. Nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, ed è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà avvenuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. L'Od a Teo Cristo. All'acclamazione al Vangelo, manderò a voi lo spirito della verità, dice il Signore, ed Egli vi guiderà a tutta la verità. Dal Salmo responsoriale 137, la Tua destra mi salva, Signore. E dagli atti degli Apostoli, come prima lettura, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E sì, cari fratelli serelli, se crediamo nel Signore Gesù, inseremo un cammino di conversione, saremo salvati, chi e chi con noi, chiaramente. noi e chi con noi, chiaramente. E dice Gesù, se non me ne vado, non verrà a voi il paracrito. Quindi doveva ritornare al Padre, quindi doveva ritornare al Padre, perché così avrebbe poi inviato lo Spirito Santo a tutti quanti coloro che credono in Cristo nostro, Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. E avevo Maria. Sia lodato Gesù è la tua famiglia. Grazie a tutti.